Attiva da inizio marzo la nuova linea 520 che collega l'aeroporto di Ciampino alle stazioni metro A di Sub-Augusta e Cinecittà, un nuovo servizio efficiente ed economico di cui potranno usufruire turisti, cittadini e i lavoratori dello scalo aeroportuale. Approvato il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università di Roma La Sapienza per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Attraverso uno studio approfondito dell'edificio sarà predisposto un piano di riutilizzo e conservazione. L'obiettivo è il recupero e la valorizzazione dell'impianto sportivo. È stata respinta la richiesta di risarcimento del valore di 150 milioni di euro avanzata dalla società investimenti SPA a Roma Capitale per l'area dell'ex Fiera di Roma. Vengono confermati i poteri di Roma Capitale nella pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio e la legittimità della decisione di ridurre le cubature da 67 a 45 mila metri quadrati, privilegiando l'interesse pubblico.